Io vado a prenderla a Franci e poi vado a Firenze. Ok, ci vediamo dopo. Buonasera Salvini. Buon lavoro. Siete ottimisti per questa interlocuzione che si avvierà adesso per governo e tutto. Certo, ottimista per natura ti fai male. Si, fai male. Quali saranno? Autorassicurazioni sul mio ministro. Buon lavoro ragazzi. Quindi ci sarà anche la squadra dei governi. Il resto, appoggio all'esterno. Come cantavano Califano, tutto il resto è noia. Quindi ci sarà Salvini, lei invece magari salta un giro come si dice. Ciao ciao. Ciao. Grazie. Ciao.